parliamo del progetto skills parliamo del supporto autocontrollato il supporto autocontrollato da a ciascuno di noi il diritto di avere tutto il controllo che scegliamo sul sostegno di cui abbiamo bisogno per vivere una vita piena lo sapevi che questo diritto appartiene a te a me infatti appartiene ad ognuno di noi non importa cosa non importa quando e in ogni fase della nostra vita da bambino da adulto e quando invecchiamo avere la capacità di controllare la nostra vita è un diritto umano ma cosa significa questo per te come mio operatore di prima linea significa che hai un ruolo importante da svolgere per rendermi le cose il più semplice possibile e per capire quanto controllo voglio avere e come esercitare questo controllo dovrai fornirmi le informazioni di cui ho bisogno e descrivermi molto chiaramente le opzioni che ho per aiutarmi ad ottenere il massimo dalla vita e dovrai stare al mio fianco anche quando i tempi sono duri dovrai aiutarmi a modellare adattare il mio supporto mentre le cose cambiano in modo che io sia abbastanza flessibile da cambiare nel tempo affinché il mio supporto sia sempre adatto a me cosa serve per fare bene questo lavoro ci vogliono conoscenze e competenze hai bisogno di avere conoscenze sul supporto autocontrollato e come funziona nel nostro paese e più di ogni altra cosa avrai bisogno di avere competenze nell'essere rispettoso premuroso positivo impegnato e abilità nell'arte della conversazione e del dialogo autentico quindi non stare all'oscuro del sostegno autocontrollato sii chiaro sul tuo ruolo di operatore di prima linea e sii consapevole delle competenze necessarie per svolgere bene il tuo lavoro e assicurati di sfruttare al meglio il nostro kit di strumenti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti